Bella ragazzi e bentornati con un nuovo fantastico affettamento, siamo di nuovo qui con Siberia 3, la seconda parte abbiamo appena finito di parlare quindi con il dottore, abbiamo recuperato i nostri panni mi è anche suggerito di andare a trovare un po' gli uccellini diceva di rilassarci, chissà che non sia un indizio quindi possiamo continuare Have you seen the mammoths too? Go tell the staff that way maybe they'll believe me and have you seen any dragons too? Grazie a tutti Qui ragazzi non so Ancora esattamente cosa dobbiamo fare Quando dobbiamo parlare con il riparto di manutenzione Questo pare che è bu Qua davanti alla porta Con questi non ci parla Possiamo usare questa telecamera Bene A che pro Più che altro dovremmo usare la chiave Sicuramente Sicuramente Magari andava qua ma non va Proviamo Ora lo scopriamo Ecco la chiave per uscire Usa Siamo non funzionerà mai Perché a 30 poi uno se ne va e finisce Ok ok Quindi Non ho ben chiaro come funzioni sta cosa Usa la tua chiave per lasciare il piano Eh sì Questo ce l'ha arrivato pure Ah ok Con questi mi sposto Ecco perché Dobbiamo allineare Tutti I vari simboli Quindi Quindi questo Dove essere questo Ecco Meglio di così Insomma Ok Sì Meglio di così Poi Prossimo è questo E direi che qua qui Penso Eh sì Per forza Sì 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 Va qui Ehm Prossimo Vabbè dai Mi aspetta qualcosa di più Un po' più Implicato invece Dovrebbe essere Bastanza Facile Insomma Oddio Proprio precisi Non li sto mettendo Vediamo se Va bene lo stesso Questo sicuramente è qui Poi Questo dovrebbe essere l'ultimo Sì Si è andato proprio bene Questo Già lo vedo che sta qui Sì Questo qui Ragazzi Spero che Il primo episodio Vi sia piaciuto Un casino Così come è piaciuto a me Ed ecco qui L'ultimo Ehm Ragazzi Vi invito A lasciare un bel like Anche per questa puntata Non so Quanto Eh Si è andata bene La prima Perché Effettivamente questo lo sto registrando Prima di caricare il primo video Però spero ragazzi Che Sarete in molti A seguirmi Per questo fantastico Cosa devi fare la chiave rotta Stai scherzando Ma che no Ma guardami Mi sento Mi sento Mi sento Mi sento Mi sento Impossibile Miss Walker La regola è molto clara Solo Quelli Quelli Capabili Di aprire La porta Può leave Questo Poi Nessuno Praticamente Chiedi di Matar Morca Ok Quindi siamo in una casa di pazzi Ispeziona la chiave nel tuo inventario Ok Apri il tuo inventario Ecco l'inventario Andiamo a questa chiave Osservo questa chiave Sposta escursori per trovare i punti di interesse Osservo questa chiave Questo Ok Cerca una copia originale della chiave Per uscire Molto molto bene ragazzi Stiamo procedendo bene Dovrei provare a far Stasera Visto che non sapevo Che possiamo fare Tante volte Vabbè Ci ho provato Chiuso Ragazzi Sto un po' improvvisando Perché Non ho idea Di cosa dobbiamo fare Sì Ti lascia parla da solo Allora Io penso che una copia potrebbe essere Nell'ufficio Del dottore Almeno questa è la prima cosa Che penso Penserebbero un po' tutti Diciamo Quindi torniamo qui Tra l'altro si è allontanato Quindi anche questa cosa Magari ti fa pensare un po' Ecco Siamo soli nel suo studio Nel frattempo mi gusto Un po' di tisana ragazzi Alla vostra salute Quando il caffè E quando Una tisana Fruga nel cassetto E come aspettavo Ma che c'è Cosa sta succedendo In questo cassetto Non ho idea Di cosa sto vedendo Ahà Ecco la nostra chiave Impossibile I see According to the picture There's a pin missing I need to find a way to fix it But how am I gonna manage it? Beh io direi che Un modo magari Potrebbe essere Improvvisare magari Qualcosa Per sostituirlo Vediamo un po' Vediamo un po' Se a me ci serve qualcosa Ci serve qualcosa Cosa 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 C'è un salto da Kirk Va Tante volte Non si sa mai Ragazzi Per questi episodi Mi piacerebbe Magari riuscire Almeno a How are you Kak A fare Mi parla the sa Chiave Magari I'm afraid Not You seem upset What's wrong I have to use A kind of key To open a door And finally get out Of this place It's a kind of a test You know A test that I passed But the key didn't work And when I compared it With an original I saw It had been sabotaged I'm getting the impression They're trying to keep us here By any means Kirk E' proprio cosi Ci tengono contro la nostra volontà Ecco bravo da darci una mano Kirk Appunto diciamo che ci stanno trattendo contro nostra volontà Un attimo Te Ok Ok Addirittura ci sta dicendo di inviare questa chiave al suo fabbro della tribù in modo che ce la ripari ma come c'è detto tramite uno sciamano come ha detto Sarà quell'uccello là Il cufo Non sembra cacarmi Ok Ok Come facciamo Secondo me devo aprire prima sto coso qua Ma come Sarebbe stato troppo facile infatti Però ho avuto culo Adesso ho pensato di parlare con Kirk Perché proprio lui sembra poterci aiutare Allora ha detto guardi nel cortile Nel cortile Nel cortile sarebbe l'altra stanza Qualcosa per attirarlo Affanculo Uccellaccio maledetto Non potevi venire zitto No No Ti serve pure qualcosa Un po' di mangiare Ok questo debba essere Quello che lui intende come due cortile Chiamalo cortile Una sala diciamo Una sala diciamo Che palle Non so proprio raga Con cosa lo possiamo attirare Cioè i costi non sono molti Diciamo per fortuna perché Almeno questo ci aiuta Abbiamo preso la chiave Troppo figo raga Siamo dei grandi Cazzo Abbiamo preso la chiave per gli uccelli Ah ma questo era il signore Che li guardava No che faceva la partita Con l'amico là Ha finito la partita E si è addormentato Non lo so Comunque abbiamo ottenuto la chiave Vediamo se non ci sa più Forse se non c'è più Era lui Eh no infatti Non era questo Era quello che faceva la partita Scacchi Allora adesso la possiamo aprire Sicuramente è la chiave di Di questo O delle finestre E penso di qua però Vediamo C'è va C'è va Oh stiamo procedendo Alla grandissima Oddio è vero che Uccello meccanico Non ho messo la difficoltà Più difficile Però ragazzi Cioè stiamo procedendo Proprio spediti Cioè non ci stiamo bloccando Per nulla Infatti penso che non farò Neanche tagli Arrivati a questo punto Perché Che senso ha Fare di tagli Quando la storia Procede così liscia Ed è anche molto chiaro Fino a questo punto Questi matti Squilibrati Che a inizio del gioco Appunto parlavano Con qualcuno Che vuole venire Per noi Sicuramente per non Per darci un abbraccio E ci stanno cercando E ci stanno cercando di trattenere In questa clinica Il più a lungo possibile Prima che arrivano Questi maledetti Ma noi Ma noi ce ne andremo Sicuramente prima Quindi procediamo Funziona? Sicuro Che figata Vieni un gufo Per te Aspetta Si attiva Si attiva Vieni gufetto Vieni Ebra Mi sa che è rimasto Un po' deluso Che bellino Vai Sfera Poké Scelgo te Sate se ritorna Lassopra E non va alla tribù Cioè pacco Malamente Tipo noi aspettare No gufo di merda Devi portarlo alla tribù E poi riportarlo anche Che cazzo giù Dr. Olga Treatment Ma che cazzo Cioè lui ha detto La cura Ma dammo Che ha preso Ma l'ha fatto a Kirk Vabbè Maniera Stupida I'm Dr. Olga Efimova And this young Nomad Is in my care I need to prepare His organism To accept The prosthesis He's doing fine He's following The protocol Oh really? Protocol Is it? And you think It's normal For him To just faint Like that? Fainting Is a secondary Effect Inherent In the treatment Miss Walker Nothing more In medicine Despite any Discomfort Pugliela Pugliela Oh, cosa si è lago? Quando abbiamo la chance, ho detto, per la interrogazione che ho avuto. Oh, cosa si è lago? Oh, cosa si è lago? Quando abbiamo la chance, io lo so, però per ora ho chiesto di lasciare, c'è, deve deve iniettare inoltre la sigla, cioè questo lo ammazza. Tonoca, no, vabbè in tono di sfida, chiede di essere lasciata andare. E' inutile sfidare. Sì, spero che tutto questo va a aiutare. Bene, allora, non posso immagino perché potresti pensare l'opposizione, Miss Walker. Ma quale cura? Secondo me lo stanno tipo drogando, boh. Sì, buongiorno, doctor. Ma sarebbe troppo, troppo semplice così. Troppo semplice. Qualcosa non mi guada a me. Sto povero Cristo. Chiave riparata? Lascia il reparto malati. Sì, ma poi forse passiamo in un altro reparto. non c'è. Andrò a chiedere aiuto, non posso di parla. Dirò fuori di qui. Allora, I need my mechanical prosthesis to undertake the great ostrich migration. So what do you want me to do? I'm not gonna leave you in the hands of that crazy Olga. The best thing, Kate Walker, is for you to go along. And if you really want to help me, once you are outside, go to Valsimbor and try to recover my prosthesis from the craftsmen. If you bring it back to me, Dr. Zamyatine, and I will be able to go there. In modo che il suo medico gliela possa entrare. I'm not so sure when I see what this clinic is like. The man has always been a friend to the Ukos. And I'm sure he'll be able to help you leave the hospital. And find the craftsman in Valsimbor. Okay. I promise to come back as soon as I can with your prosthesis, Kirk. Until then, hang in there. Thank you, Kate Walker. And may the spirits be with you. So, So, I think we can leave it here. And we will leave it here. But, I think we can leave it here. And then, we will leave it here. We will leave it here. We will save it here. Dr. Zamyatine, should be able to help you find the Valsimbor craftsman. Okay, so, if the doctor is asking me to do whatever we need to do, Is there to help me to do so. Okay, if he's told me to do so, he's giving it over to the vet to work, so, he's giving it how the doctor is. non è questo il dottore allora forse è il medico della sua tribù quello di cui parlava probabilmente proviamo a uscire dai ragazzi proviamo proviamo poi dire che ci possiamo salutare perchè abbiamo fatto comunque un sacco di cose in un episodio solo sicuramente anche questo è un bel episodio abbastanza lungo il suo neddo deve funzionare per forza stiamo per abbandonare il reparto ragazzi ci siamo e io direi che dopodichè forse parte un video vediamo un po' che succede poi ci possiamo salutare ragazzi a me mi sta piacendo un casino questo gioco è veramente fantastico sta mantenendo le mie aspettative cerca il dottor zamian come cacchio si chiama lui vabbè ragazzi non è partito un video siamo scesi al piano di sotto comunque sono una latrina va bene ragazzi direi che ci possiamo salutare qui lasciate un bel like iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto facebook twitter instagram in descrizione voglio bene ragazzi continuate a seguire perchè questa è una serie fantastica e chi la seguirà con me sono sicuro che si starà divertendo un casino come mi sto divertendo io a giocarla io vi saluto ragazzi ci vediamo domani per un nuovo fantastico appuntamento commentate anche e fatemi sapere anche se preferite uno o due episodi al giorno bello a tutti ragazzi